Amici di Milan.soccer, eccoci di nuovo con un appuntamento sempre legato al mondo rossonero, al mondo del Milan. Oggi, come vi dicevo, stamattina una giornata speciale, poi abbiamo continuato con la presentazione di Fonseca, ma iniziamo subito a capire quali sono le stranezze, se vogliamo, che ci sono dietro a questo annuncio, perché alcune cose potete vendercele per come vi pare, ma poi si notano e noi le cerchiamo, le evidenziamo, le cerchiamo in rosso, cerchiamo quantomeno di farle, di comprenderle insieme a voi, visto che non ci degnate di nessuna dichiarazione e parlo della società. Prima di cominciare, come sempre vi ricordo, l'iscrizione al canale, qui sotto, semplice e gratuita, grazie a tutti coloro che lo faranno e poi un pollicione, un like a questo video. Io personalmente, ve lo dico subito, mi sono preso un attimo di pausa, mi sono preso un attimo di pausa per cercare di ragionare a mente fredda, non voglio essere troppo, come dire, affrettato, però poi alla fine, pur contando fino a 100, a 1000, a 10.000, il mio giudizio non è cambiato. Mi sembra che questa conferenza stampa di Ibrahimovic sia stata, posso dirlo, aziendalista, sì, una conferenza stampa quasi scritta, una conferenza stampa molto equilibrata, ma al contempo ormai non suscita più nessun tipo di eccitazione, il fatto di dire che lui sia un vincente, ma questo mi interessa poco, quanto piuttosto prenderci in giro nel dire che è un vincente anche cardinale. Io continuo sulla mia strada, mi dispiace per chi non è d'accordo, ma la strada è chiara. Sono due anni e in questi due anni noi non abbiamo avuto nessun tipo di soddisfazione, anzi, sono sincero, abbiamo anche subito qualche umiliazione, quindi questo mi porta a dire che quantomeno la parola vincente va aggiunta a lungo termine, oppure adesso la parola giusta è sostenibile, ma non è questo quello che mi importa, mi importa piuttosto capire quelli che sono gli step di crescita, abbiamo scelto Paolo Fonseca perché è un allenatore che ci garantisce dinamismo e poi ancora ci garantisce un futuro vincente, ma sulla base di cosa viene detto questo? Io, come dire, per logica. Ora tu, caro Ibraimovic, puoi anche far fare a tutti noi la figura di quelli che chiacchierano o piuttosto quelli che si agitano, ma poi alla fine nella vita conta una sola cosa, contano i risultati, questo lo hai sempre insegnato a tutti i tuoi tifosi, i risultati ci dicono che Cardinale non può essere considerato quantomeno ad oggi un vincente perché non ha vinto nulla. Paolo Fonseca non può essere considerato un vincente perché ad oggi ha vinto poco e niente, o meglio ha fatto qualche cosa con lo Shakhtar, poi nulla più. Quindi voi dite che si andrà a vincere qualcosa basandovi su quale elemento, considerando anche che non abbiamo nemmeno la voglia di investire sul mercato. Quindi è chiaro che è una supercazzola del Conte Mascetti, saluto il mio amico Gimbo Tognazzi, è una supercazzola a tutti gli effetti, però parla anche Paolo Fonseca, le prime parole, e poi mi sarei aspettato quantomeno che ci fosse stato anche Paolo Fonseca, che quantomeno ci fosse stata una presentazione più in stile berlusconiano, visto che voi vi vantate di essere i Berlusconi 2.0, ma invece sei stato mandato con una certa codardia, se posso usare, perché sei solo lì di fronte a milioni di tifosi che aspettano da settimane qualsiasi tipo di dichiarazione, se non addirittura l'annuncio del prossimo allenatore, avete spento ogni tipo di emozione, ogni tipo di sentimento e solo lì hai provato a fare un po' l'Ibraimovic, ma in versione giacca, cravatta o giù di lì. Quindi non è facile come dire, suscitare entusiasmi, però avete ragione voi, perché gli abbonamenti vanno a gonfie vele, quindi se gli abbonamenti vanno a gonfie vele va bene così. Io mi rendo conto che se fossi un'aziendalista, cioè se fossi uno che gestisce un'azienda, in questo caso il Milan, e tra il non spendere e lo spendere, in mezzo c'è solo un po' di rottura di balle, perché senza spendere, io comunque ho merchandising, stadio pieno, e allora perché spendere? Meglio non spendere, quei 15 milioni da dare alla gente, perché spenderli? Meglio non spenderli. Questo è un rimprovero che faccio a tutti noi. Io personalmente non ho nessuna intenzione di spendere un euro, fino a quando non mi dimostrate che oltre le chiacchiere c'è di più, perché fino ad oggi voi avete fatto solo chiacchiere, chiacchiere bla bla bla, chiacchiere bla bla bla, siete una manica di chiacchieroni e a chiacchierare siamo bravi, figuriamoci anche noi siamo bravi a chiacchierare, non ci vuole il fisico tuo Ibra per chiacchierare, ci vuole un po' di verbo, un po' di coraggio. Comunque Paolo Fonseca ha affidato la sua dichiarazione, prima dichiarazione ai social e ha detto esattamente quello che mi aspettavo dicesse, niente, un onore, un orgoglio, una responsabilità, forza Milan. Io mi chiedo, davvero mi chiedo, e poi perché non c'era? E poi perché non c'era? Il perché non c'era è chiaro, perché Fonseca fino ai primi di luglio, fino al 5 barra 6 luglio, non può essere in Italia per motivi fiscali. Questa è l'indicazione che tra l'altro è stata data anche da importanti giornalisti che si occupano di calciomercato, quindi mi viene in mente che nei prossimi 20 giorni il Milan non farà nessuna dichiarazione se non comprare chissà chi nel terreno, diciamo in una squadra di chissà dove. Però io vi ripeto e voglio sapere cosa ne pensate, la prima dichiarazione, quattro parole su un sito, su internet, su Facebook, su Instagram, dovunque adesso sia, su Instagram, quattro parole e poi nessun tipo di messaggio, videomessaggio, bisogna aspettare il 5 luglio per motivi fiscali che non si capisce a che cosa stia a significare e poi Ibrahimovic, né un amministratore delegato, né un presidente, né un proprietario, cioè voi continuate ogni giorno e ogni cosa che fate a rendere le cose ancora più complicate, ancora più difficile. Staremo a vedere quello che succede, l'unica cosa certa che siccome voi solo dichiarazioni su cose certe, quindi non è vero che abbiamo contattato Conte, non è vero abbiamo parlato con Leopeteghi ma poi abbiamo preferito Paolo Fonseca, siccome voi prendete in giro noi dicendo che ne spariamo tante e vi posso garantire che io credo che ne spariate più voi, però facciamo così, facciamo un patto, noi parliamo solo a cose fatte, quindi quando è ufficiale la cosa, quindi siccome voi parlate solo quando le cose sono ufficiali, per voi oggi avete parlato, così voi oggi avete parlato perché è ufficiale Fonseca, noi non vogliamo sentirvi più dire che siete vincenti perché noi parliamo di due anni da perdenti senza neppure il trofeo Birra Moretti e questo non vi legittima dire che andrete a vincere perché se fate promesse o dite cose che non mantenete allora non potete criticare gli altri che magari dicono o sperano che a sedere sulla panchina non sia una persona anonima ma sia un vincente come ce n'erano a disposizione questa stagione. Ci sentiamo dopo, ciao!